Il gas è sempre più vicino Ah, uno si è buttato Il tuo team è nella zona sicura Mettala in spara Non ciò, me muovi Levati davanti Servono colpi per lanciatore Anzi, se forse saliamo da qui è meglio dopo Eh, ma dopo però, falle morire per ora Ah, si Quando sono tipo gli ultimi 5 Mi sono rombato una maschera che era a terra Sto ritornando Palermo tipo i suggi Spuntano, si vienano che non ci Attacco aereo alleato in zona Ultimi 25 Ma vero faccio da questo Ma noi li ho detto a vista in foto sotto il polvere Ti sta in via E ora che facciamo? Usciamo dall'acqua da fuori Saliamo, saliamo No, no, no usciamo da qua da tunnel Da dove siamo entrati, si Da dove siamo entrati, si Facciamo i meni in safe Nemico in arrivo nell'area Ma asciugrano Andiamo Butta le muri, butta le muri Eh, sì, meglio Fai Lascio delle munizioni Perdete terreno Ti conviene fare il Il Huawei Il nostro Huawei è in servono Affrettati verso la zona sicura Che facciamo, avanziamo? Arriva una Semtex Ci voleva un bombardamento qua Ecco, c'è gente Ok, qua sotto qua Sì, in movimento Molotov lanciata Da dove spari? Sotto acqua, via Vamo minchia No, 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 calma, calma Ora ti riesco Ora ti riesco Gatti in movimento Sei tra i primi dieci Torniamo alla, fra Bene, raggiungi la zona sicura Aspetta, aspetta Non lo vedo, a testem Ah, scopo questa cardella Io sono salito, fra Eh, là, fra Puttani Oh, sono due 3 grammi Gatti in avvicinamento Per il pop Porta casa alla vittoria Non puoi vedere se questi avevano magari un lanter Non puoi vedere se questi avevano magari un lanter No, non ci Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Poi vi spiego come ho fatto Qua, qua, qua c'è un armi qua giù L'ultimo, raga Ah Ah, dai, là No Mamma mia Che è cammina Mamma mia che cazzo Che è cammina 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 Ma qua Viste